Nel 1969 i più scatenati andavano a Woodstock, i più sfortunati andavano in guerra, ma quelli che non sapevano che strada scegliere. Tu sei la sola diplomata a non andare all'università. Io non ho piani, soltanto non voglio finire come mia madre. Susanna. Li mandavano a Claymore. Il posto migliore al mondo per una come te è a meno di mezz'ora da qui. Benvenuta a Claymore. Credo di essere perclessa su perché devo stare in un ospedale psichiatrico. Chiamami un taxi. Ok, sei un taxi. Hai buttato giù un flacone di aspirina con una bottiglia di vodka. Avevo un mal di testa. Su, coraggio, fa un passo avanti, mi pianto, questa è nella orta. Lisa, la orta ce l'hai nel torace. Buona sapersi. Che cosa sono? Per dormire. Non ne ho bisogno. Che c'è? Abbiamo dei problemi? Guardami. C'è qualcosa nel sesso che ti provoca un senso di disperazione? Lei ha mai fatto sesso? Alti e bassi aumentano sensibilmente. Lisa crede di essere speciale perché è sociopatica. Io sono sociopatica. No, tu sei lesbica. Si riscontrano spesso incertezza sugli obiettivi e un diffuso atteggiamento pessimistico. Sono io. Siamo tutti così. Tu non dovresti stare qui. Lasciatemi! Sta cambiando tutto. Che ne sanno loro cos'è essere normali? Fammi uscire da qui! Fai qualcosa tu per uscirne. Andiamo. Un gelato di crema con cioccolato caldo, panna montata, ciliegine e... Sei pazza? Take a load off, Benny. Take a load for free. Take a load off, Benny. And you put the load right on me. Tu non dovresti stare qui. Che ne sanno loro cos'è? TiINGLE guira di追 stuck a lui. Ca lo tra quello che ha dato che ha dato. Ti danno meno cos'è bö100 più tanti.